ciao a tutti ben ritrovati ma ancora tu ma non c'è proprio niente da fare ma smetti di guardare i miei video e vai a studiare comunque come avrete sicuramente notato dal titolo questo è un video interattivo in di ragione per cui sarai tu a decidere a quali sorti dovrà andare incontro il nostro amico ieva cioè lui cioè io però con un cappello leopardato che fa molto trash possiamo iniziare e come tutte le storie che si rispettino inizia proprio così c'era una volta ieva ciao 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 I want to kill everybody in the world I want to kill everybody in the world I want to kill everybody in the world I want to kill everybody in the world